Questa canzone è dedicata ad un grande allenatore che già in tarda età, qualche anno fa, andò ad allenare all'estero, in un paese straniero, in una lingua straniera. Il caso volle che le telecamere, con la solita indiscrezione, lo corse in un grande momento di debolezza, durante un suo sfogo, fatto in questa lingua approssimativa che lui in poco tempo aveva imparato. La cosa suscitò molta ilarità, però, a distanza di tempo, suscitò un altro sentimento, quello di ammirazione. Il diavolo ci mette proprio la coda, perché il giocatore con cui lui se la prendeva di più era uno che per cognome faceva stronza. E questo da noi suscitava ancora più ilarità. Però, ripeto, il suo sfogo, a riguardarlo adesso, a noi ci ha determinati nel fare questa canzone, che in qualche modo si ispira a lui, e che si chiama Lo Sfogo del Mister, a Giovanni Trafattò. Il pessimismo difende la vita, così diceva il mister, per questo vi dico che siete un tipo di mierda. E poi, con le mani sulla cima, e se perdo sicuro come credo, niente di nuovo ci vedo, solo un bicchiere per un precario. Il triunfalismo si sente i cretini, ridono come i bambini, non sanno che c'è, che c'è dietro la porta. Tre palloni belli presi dalla quarta, e c'è la prima. Ora si torna vicino ai secondi e terzi, fino agli ultimi confini, e sperando come fesso, che la fortuna ci benedica, le scarpe della vita. E il pessimismo difende da tutto, e dal mismo entusiasmo, della tossina, fotto ma ne guarda, le altre squadre che vanno su, io me ne vedo. E il pessimismo è un'eleganza, non di poca importanza, e voi non avete capito con la palla come si danza. E il pessimismo è un'eleganza, non di poca importanza, e voi non avete capito con la palla come si danza. Il pessimismo è un'eleganza, non di poca importanza, e voi non avete capito con la palla come si danza. e voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E il pessimismo è un'eleganza, non di poca importanza, e voi non avete capito con la palla come si danza. E il pessimismo è un'eleganza, non di poca importanza, e voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. E voi non avete capito con la palla come si danza. Grazie a tutti